Siete appassionati di fotografia e state cercando di trasformarla nel vostro mestiere in un paese come l'Italia? Beh, a queste condizioni che cosa potrà mai andare storto? Nel corso di questo video vado a darvi tre consigli, tre cose da non fare se state cercando di approcciare la fotografia in maniera un po' più seria e fare di questo meraviglioso hobby il vostro mestiere. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, faccio il fotografo di mestiere ormai da diversi anni, quindi gli errori di cui vi vado a parlare in questo video sono errori che io stesso ho messo ma più di una volta, ci ho sbattuto la faccia un sacco di volte, quindi vado a raccontarvi la mia esperienza. Ovviamente il mio consiglio è di non scoraggiarvi, non prendete per oro colato quello che io vi dico, se in qualcosa io ho fallito non è automatico che fallirete anche voi, però io vi dico dove e come ho fallito in maniera tale che possiate magari aggirare l'ostacolo. Se volete continuare a risparmiare tempo aggirando ostacoli vari nel mondo della fotografia, del video making del design, io vi consiglio di iscrivervi subito al canale, non ve ne pentirete. Andiamo a incominciare, prima cosa che io francamente vi sconsiglio se avete appena cominciato a fare dei lavori in ambito fotografico, la pubblicità. La pubblicità è una cosa da approcciare con molta cautela, in particolare parlo della pubblicità sui social, vi dico questo perché, perché a me capita spessissimo di vedere post sponsorizzati, magari sto scrollando su Instagram per mestiere perché io lavoro in un'agenzia web quindi ogni tanto devo controllare delle cose, non è che posto granché, io posto una volta ogni due mesi ormai, però mi capita di scrollare, vedo delle sponsorizzate e vedo pinco pallino PH, pinco pallino fotografo, pinco pallino qualsiasi cosa, cioè nome e cognome più titolo, altisonante alle volte, sponsorizzata. Sponsorizzata nel senso che sta pagando per far vedere magari la sua foto e sta pagando per far vedere una foto a cui non daresti nemmeno le famose due lire. Questo ragazzi è un autogol clamoroso, per un sacco di motivi, primo state buttando dei soldi perché vi state promuovendo come fotografi pensando magari che qualcuno possa trovare artistica la vostra foto, vi do un piccolo tip, nel momento in cui vi promuovete con qualcuno nessuno sta cercando l'arte o quasi nessuno sta cercando l'arte, stanno cercando qualcuno in grado di realizzare delle foto con un margine di errore minimo, quindi dovete far vedere che siete tecnici e che sapete padroneggiare la materia su cui vi verrà chiesto di fotografare, non gliene frega niente a nessuno che avete fatto la foto artistica, quindi non fate street photography in bianco e nero e promuovete una foto di street in bianco e nero, nessuno vi pagherà per fare quella roba lì. E soprattutto fate molta attenzione quando promuovete qualcosa perché se voi spendete dei soldi per portare dei potenziali clienti sul vostro canale, sul vostro canale devono atterrare e trovare un ecosistema tale che gli venga voglia di ingaggiarvi. Per ecosistema cosa intendo? Devono esserci una serie di immagini molto belle rappresentative di quello che fate, devono esserci delle spiegazioni magari nelle storie in evidenza di che cosa fate, di come contattarvi, di quando siete disponibili, dove vi trovate, la descrizione serve anche a questo, scrivete nella descrizione che cosa fate. A me capita spessissimo di vedere questi annunci sponsorizzati, poi apro il profilo e atterro su un canale dove ci sono quattro foto in croce, tutte brutte o comunque non degne di nota, comunque non tecniche e nella descrizione c'è scritto sto usando una Sony Alpha 7 S3. Ho capito, bravo, l'unica informazione che mi stai dando è che stai usando quella macchina, informazione peraltro inutile, perché se sei un professionista, voglio dire, io quando vado dal mio dentista non gli chiedo di che marca è il trapano, io voglio che mi sistemi il dente, cioè ci siamo capiti, è inutile, ho già fatto anche un video lungo su questo tema, è inutile se non dannoso scrivere che macchina utilizziamo, è solo dannoso secondo me. Quando facciamo approdare qualcuno sulla nostra pagina, assicuriamoci che ci sia un ecosistema che lo invoglia all'acquisto o a contattarci per chiedere informazioni, non possiamo buttare i nostri soldi su meta. Cioè attenzione, io lo capisco il ragionamento che molti fanno, magari molti sono giovani o molto giovani o molto boomer, perché poi la forbice è quella, e quindi dicono io spendo dei soldi, promuovo i post e così il post gira e mi arrivano tanti bei like. Attenzione ragazzi, primo i like non vi arrivano, perché se state promuovendo un contenuto non particolarmente edificante non vi arrivano neanche i like, però se state pensando di promuovere un post a caso per farvi pubblicità e portarvi dei clienti, ve lo dico, non funziona. Quando promuovete un post deve essere un contenuto più complesso della singola foto, meglio se è un video, ve lo dico fuori dai denti, la foto non funziona sulle piattaforme di meta, è meglio se è un video in cui spiegate quello che state facendo in prima persona mettendoci la faccia. Vi dico queste cose anche per mettervi dei paletti, se non siete disposti a fare tutte queste cose e volete limitarvi a fare promuovi post su Instagram, non funzionerà. Secondo me, ve lo dico, non funzionerà, quindi vi avviso, provateci lo stesso se volete, ma secondo me non funziona. Questo è il primo grande errore. Secondo grande errore di cui vi parlo oggi, copiare prezzi e servizi dai competitor nella vostra stessa zona. Allora, questa è una cosa che può anche avere una sua utilità, perché io mi rendo conto se siamo appena entrati nell'ambiente e magari non abbiamo idea di quanto costi un servizio fotografico, io magari non so qual è il prezzo corrente di una fototessera, non so qual è il prezzo corrente di un matrimonio, non so qual è il prezzo corrente di un video automotive, non lo so. Allora vado su siti di miei competitor, magari se sono a nord, sud, centro Italia, vado a cercare dei competitor nella mia stessa regione, nella mia stessa fascia. Ovviamente se opero in Veneto non faccio gli stessi prezzi della Sicilia, perché ci saranno delle differenze anche significative, quindi ci vuole un minimo di test anche nel scegliere da chi copiare. Può servire a darci un'idea, però prendere paro paro e copiare prezzi e servizi è un boomerang clamoroso, perché se noi chiediamo una cifra troppo alta per una cosa che non sappiamo fare, facciamo una figura terrificante, non consegniamo il lavoro, rischiamo anche che il cliente ci chieda dei danni. Quindi se noi ci poniamo come professionisti di livello alto e se chiediamo una certa cifra, veniamo probabilmente percepiti in quella maniera, posto che poi se non abbiamo l'ecosistema il castello di carta crolla tutto, ma facciamo finta di avere trovato la soluzione per il primo punto. Quindi abbiamo un buon ecosistema, quando io atterro sui vostri social mi viene proprio voglia di ingaggiarvi per farmi fare delle foto. A questo punto però, se siamo capaci di coprire tutta una serie di casistiche e lavoriamo per determinati tipi di fotografia, cerchiamo di mettere il prezzo giusto per il nostro livello. È evidente che veniamo scelti anche in base al prezzo, ci sono clienti che spendono 10.000 euro al giorno per un fotografo e non gliene frega niente, anzi se siete tra questi clienti vi prego contattatemi, io sono sempre qui a disposizione. Ci sono clienti che pagano 10.000 euro al giorno e non gliene frega niente e ci sono clienti invece che più di 100 euro per un lavoro completo non vogliono sganciare. Quindi se voi vi collocate nella fascia di prezzo bassa, troverete clienti bassi che però sono di più di quelli alti e spesso e volentieri è la scelta migliore perché se avete appena cominciato non potete chiedere 10.000 euro al giorno, non siete in grado. Quindi attenzione a collocarsi bene, a collocarsi nella maniera giusta, non copiando gli altri perché se andate a copiare un fotografo rinomato che chiede una determinata cifra e per sventura chiamano voi invece di lui perché magari quello chiede 1.000 euro, voi ne chiedete 900, ma voi non fate un lavoro che è in qualche modo equiparabile al suo, quindi fate una pessima figura, rovinate il mercato anche a lui e creiamo un circolo vizioso per cui abbiamo un cliente che non chiamerà mai più un fotografo perché ha speso quasi 1.000 euro e si è trovato male. Ultimo errore, l'ho tenuto per ultimo, secondo me è una delle cose peggiori che vi possano capitare, non prendete un'ottica tuttofare e poi cominciate ad accettare qualsiasi lavoro vi diano. Tenete conto che le ottiche tuttofare vanno bene e anch'io le uso, attenzione, io uso il 24-105 serie L di Canon, tanto è un tuttofare con un bel anello rosso, quindi è un tuttofare costoso e quindi performante. Non crediate di poter prendere un obiettivo tuttofare e fare qualsiasi cosa però, io so esattamente che cosa ci vado a fare quando uso il 24-105, è un'ottica per uso generalista, posso farci determinate cose, certe altre cose non ce le posso fare. Se mi chiedono fotografia macro io non posso farla con un'ottica generalista, se mi chiedono fotografia di interni io non posso farla con un'ottica generalista, se mi chiedono paesaggio sono un po' limitato, se mi chiedono un matrimonio sono un po' limitato, cioè non crediate che l'ottica tuttofare sia la panacea per tutti i vostri problemi, un'ottica sola che vi permette di fare tutto non esiste. Per questo motivo un po' ci si specializza, perché così si dice ok, io mi voglio specializzare in still life, allora prendo un'ottica macro e un'ottica da still life in maniera tale che riesco a fare quella roba lì. Sicuramente il paesaggio e l'astrofotografia riuscirò a farle un po' meno bene con quelle ottiche che ho scelto, però è molto meglio lavorare così ed essere un po' a compartimenti e riuscire quindi a lavorare bene negli ambiti che abbiamo scelto come nostro bacino di utenza per i nostri lavori in fotografia, piuttosto che avere magari anche più di un'ottica generalista. Io vedo gente che usa un 18-200 e poi un 24-105, cioè sono due ottiche che condividono gran parte della lunghezza focale, gran parte delle caratteristiche e sono due ottiche che anche mettendole insieme molte cose non riusciremo mai a farle. L'ottica tuttofare va bene per cominciare, l'ho presa anch'io, io quando sono passato a mirrorless, la prima ottica che ho preso è stato il 24-105, quindi si fa. Però attenzione, prendi un'ottica generalista, devi sapere che non puoi fare tutto con quell'ottica, puoi fare alcune cose e quindi in base a quello che sai, che dovresti sapere che puoi fare, accetti certi lavori e certi altri magari no. Oppure ti arriva un lavoro che non puoi fare e dici va bene, l'ottica che mi serve, la componente che mi serve per fare questo lavoro costa mille. Se tu cliente mi dai almeno 500, gli altri 500 li metti, io mi compro la cosa che manca e da quel momento in poi ce l'ho. Questa è una cosa che ho fatto spesso, mi entra un lavoro e mi serve qualcosa che non ho, uso tutto il compenso per comprarmi quello che non ho, ovviamente la mia speranza è che me lo chiedano ancora, se me lo chiedono ancora ho vinto io e quindi poi vado a guadagnarci, se invece non me lo chiedono mai più ci ho perso e mi ritrovo però con un giocattolo nuovo. Queste sono cose da tenere a mente e io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se avete domande su questo, fatemi sapere se siete professionisti, aspiranti professionisti o amatori totali, è una cosa che non ho mai chiesto alla media degli utenti sul canale, quindi fatemelo sapere in un commento, è una cosa che mi serve anche per capire come direzionare i miei contenuti. Vi ricordo anche di iscrivervi così non vi perdete i prossimi e andate a recuperarvi quelli già usciti. Signori, io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do come sempre appuntamento al prossimo video.